questo è il momento per te molto 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 bene ciao 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 grazie di essere qui 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 con me oggi 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 voglio portarti un video che racchiude le tre cose che sono state più amate sul mio canale nel 2023 le tre tipologie di video più amate ok e quindi spero di portarti un video che apprezzerai tanto e che possa rilassarti prima della fine di questo anno intanto ti ringrazio se di essere stata stata qui con me anche nel 2023 o se mi hai scoperta nel 2023 non lo saprei grazie di essere stata qui e di avermi dato fiducia oggi appunto voglio fare un video che sarà un mix fra il primo abbastanza palese quindi fra i video che faccio con l'inquadratura dall'alto quindi smr mentre dormi che sono contenta vi sia piaciuto che sicuramente continuino a fare anche l'anno prossimo e un'altra tipologia molto apprezzata è stato l'smr con i giochi in legno io amo questo tipo di smr sono veramente contenta vi sia piaciuto e adesso ho aspettato che passasse la follia del natale del black friday e ordinerò altri giochini perché mi piacciono da matti questi video li trovo deliziosi dolcissimi e terza tipologia è il rilassamento guidato barra countdown mi piace sempre tantissimo e mi ha un po' sorpreso però ne sono molto contenta perché anche a me piace molto quindi queste sono le tre tipologie che saranno inserite all'interno di questo video ovviamente la prima tipologia già inserita in questa inquadratura quindi cominciamo con i giochini in legno e la seconda parte invece sarà un po' di rilassamento guidato e countdown ok se vuoi dimmi anche nei commenti quali sono state le tue tipologie di video preferite nel 2023 e quale è stato il tuo video preferito che io ho girato nel 2023 o magari anche un trigger ASMR che hai amato in questo anno un trend magari un nuovo trigger cominciamo voglio offrirti visto che in questo periodo abbiamo tutti un po' più voglia di dolce e non ci vedo veramente nulla di male volevo offrirti un dolcino uno dei miei dolcini preferiti 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 non ci vedo non ci vedo ok 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 Questi sono tre macarons di tre gusti diversi e te ne faccio scegliere uno, se vuoi due, insomma scegli quelli che vuoi il primo che ti faccio, che ti mostro è questo è al limone e dentro appunto, sia fuori che dentro, è al limone, quindi dentro anche questo filling appunto, o al limone il secondo che ti mostro, il secondo che ti mostro è questo, ed è arancione perché è al caramello salato, lo so, lo so il secondo che ti propongo è il caramello, caramello salato questa fantasia qui, questo è pazzesco, io sono grandissima fan del caramello salato quindi con me, vabbè, si gioca facile però molto buono il terzo che ti propongo è questa è la stracciatella questa è la stracciatella questa tutte delle maccherine di cioccolato sopra e dentro invece ha un feeling alla crema stracciatella proprio tipo Reoma Macaron molto interessante molto interessante quindi quale 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 vuoi provare? facciamo il caramello salato ok ti capisco, ti capisco va bene tieni, questo è per te lo puoi mangiare quando vuoi adesso andiamo un pochino a sistemarti prima di andare a dormire ok per prima cosa voglio metterti questo profumo non è proprio un profumo il tempo profumo è un il tempo profumo però fatto apposta per dormire quindi a base di olio essenziale di lavanda e un pochino anche di altri oli essenziali perfetti per addormentarsi più tranquillamente più velocemente ok quindi scuotiamolo un po' te lo faccio sentire prima di applicartelo senti un po' è buono eh? ok ti piace? bene? allora vado appunto un pochino a bozzare il tappino dentro e lo vado ad applicare un po' qui sotto al viso all'inizio del collo anche da questa parte ok un po' dammi i polsi ok l'altro perfetto adesso non sfregarli però provo a fare un po' così ok perfetto com'è? ti sta già un po' rilassando? ok benissimo no sono contenta altra cosa che volevo fare era metterti il burro burro cacao ok 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 allora allora te lo faccio vedere questo è un burro a cacao leggermente colorato ma proprio leggero leggero leggerissimo per cui in realtà non si vedrà assolutamente questo rosso ce l'avrei messo trasparente ma non lo trovo quindi ok ti metto questo ma ti assicuro che non sporcherai assolutamente il cuscino è nulla è veramente un nulla ok quindi ok rilasso le labbra benissimo anche sopra ok molto bene perfetto adesso in realtà te ne metterei un pochino anche qui sugli angoli del naso perchè questo è uno di quei balsami che si possono mettere anche su altre parti del corpo perchè sono molto corposi fatti per la sera no? e qui vedo che è un po' di secchezza perchè hai avuto un raffreddore giusto? ci sta e quindi io te lo metterei se posso anche qui ok allora te lo metto un pochino anche dal naso ok benissimo senti già un pochino il sollivo ok bene mi fa super super piacere che tu senta ti sento già meglio tra il profumo e l'idratazione adesso prima di passare ai capelli che so che ti rilassa tanto 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 voglio un attimo voglio un attimo spennellarti il viso sempre ovviamente rigorosamente con un pennellino non 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 un po' di più ok facciamo anche fra le sopracciglia e sull'attaccatura dei capelli ok lo vedo che ti si stanno pian piano chiudendo gli occhietti, gli occhietti, gli occhietti lasciali chiudere, non c'è problema sotto e sopra la bocca chiudi questi occhietti ai lati del viso ai lati del viso ok sul naso adesso un po' sotto il viso chiudi gli occhi chiudi gli occhi sei assolutamente al sicuro con me qui tutto va bene qui tu stai assolutamente bene qui tu devi pensare solo a rilassarti a chiudere e chiudere gli occhi qui questo è il momento per te e solo per te ok fantastico molto 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 bene ancora qualche secondo di brushing al tuo bel bel visino che si sta piano piano rilassando sempre sempre di più adesso passiamo un pochino ai capelli ok 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 e comincia a passare il pennello un pochino sul tuo volto ok 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 tu chiudi gli occhi se vuoi non c'è assolutamente bisogno di tutto, non lo tengo aperto in questo momento mi fa davvero piacere vederti così rilassato che ti lascia un po' andare so che non è facile non bisogna farlo adesso ho preparato una sorpresina per te, piccola piccola ho portato una cosa che ti piace e penso che ti rilasserà tanto e cioè il phon ovviamente in legno sia chiaro non importa che abbia il diffusore è importante che faccia appunto il suono bellissimo questo suono bellissimo questo suono ok, facciamo che lo aggiungiamo? quindi andiamo da ON verso DOF verso ON e poi andiamo da un po' di più e poi andiamo da un po' di più che è un po' di più che è un po' di più Grazie a tutti. 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 Mentre rilassati, chiudi gli occhi se non l'hai ancora fatto, anche se spero davvero tu l'abbia già fatto. E adesso cominciamo a rilassare tutto il corpo. Ok? Ma trovo estremamente rilassante invece la sensazione del sole che asciuga la tua pelle. Magari hai fatto un bagno al mare, magari hai fatto un bagno al mare, in piscina. Quello è proprio il sole che semplicemente ti scalda, quindi immagino se vuoi di avere sul corpo questa sensazione che già un pochino scioglie tutte e tutte e tutte le tensioni. E ora ti chiedo di rilassare il piede destro. sentirlo, sentirlo pesantissimo, tutte le dita rilassare. Ok? E alza poi fai salire questo relax alla caviglia, al polvaccio. a me è aiuto fare ogni volta un'ispirazione come per rilasciare la tensione quindi le ginocchia destro la coscia destra il bacino destro l'addome il tronco destro la spalla destra l'avambraccio destro e tutta la mano e le dita della mano sono pesantissime rilascio questa tensione la spalla il collo e tutta la parte destra l'attaccatura del viso anche l'attaccatura dei capelli la senti più pesante e adesso ti chiedo di notare l'enorme differenza fra la parte destra e la parte sinistra del corpo senti quanto la parte destra sia più pesante più rilassata si sia lasciata andare adesso quindi passiamo alla parte sinistra del corpo quindi il piede lascialo cadere verso terra la caviglia il polpaccio il polpaccio il ginocchio la coscia e il bacino pesantissimo pesantissimo l'addome il tronco la spalla ben piantata al pavimento comunque molto giù distanziata dalle orecchie rilascia tutto l'avambrazzo e il braccio sinistro e la mano pesantissima e tutte le dita uno ad uno a partire dal pollice indice medio anulare mignolo sono tutti rilassati sono tutti rilassati il collo sinistro la parte sinistra del viso l'attaccatura dei capelli la testa si lasciano andare e adesso dovresti sentirti veramente in uno stato completamente rilassato e un po' catatonico forse adesso adesso facciamo un bel countdown da 20 a 0 ok? 20 19 19 19 19 20 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 23 20 20 20 25 20 otto sette 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 cinque 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 quattro tre due uno zero 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 io ti auguro un buon anno nuovo noi ci vedremo nel 2024 e ti ringrazio per questo anno splendido passato insieme grazie di cuore ti auguro un anno ricco di passioni ricco di amore ricco di scoperte ricco di soddisfazioni ma anche tanto relax ricco di tutto tutto ciò che desideri veramente te lo auguro dal cuore e ti mando un bacione un abbraccio vieni? un abbraccio un abbraccio un abbraccio che rispere